Direttore, abbiamo chiuso definitivamente questa vicenda a giudiziare un presunto caso di usura che aveva portato la banca del Cilento perché i fatti risalgono a qualche anno fa nelle aule del Tribunale di Vallo. Ieri il giudice per le indagini preliminari Marotta ha detto il fatto non sussiste e quindi ha assolto i dipendenti e funzionari coinvolti in questa vicenda. Dipendenti e funzionari che voi avevate sempre difeso a denti stretti. Ma in realtà era l'unico caso in cui la banca era stata coinvolta, anche se questa è una vicenda che risale a moltissimi anni fa, parliamo del 2005-2006 grossomodo, parliamo dell'allora banca del Cilento Centrale, come si chiamava all'epoca, era una banca di 7-8 filiali, adesso non ricordo nemmeno perché era arrivato da poco e delle indagini fatte in un certo modo avevano in qualche modo individuato o presunte responsabilità da parte di alcuni nostri dipendenti nella gestione di un rapporto che nel frattempo, un rapporto con una società che nel frattempo però era fallita e quindi tante altre vicissitudini giudiziarie. Finalmente giustizia è fatta perché al di là del fatto che i dipendenti non erano responsabili in quanto le condizioni economiche sono di competenza del massimo organo di gestione della banca e quindi del CDA, ma si è potuto accertare che non c'era stato superamento della soglia usura. Ma questo per un motivo molto semplice che noi abbiamo rassegnato agli atti della causa e che il nostro bravissimo avvocato avvocato Maldonato ha saputo mettere nella dovuta evidenza. A caso è stato scelto anche il rito abbreviato proprio per arrivare quanto prima al risultato. Ma anche perché eravamo assolutamente come dire come banca e come dipendenti tranquilli delle nostre cose. Dicevo perché? Perché noi abbiamo da sempre una procedura che chiamiamo tagliatassi che prima di fare il calcolo definitivo delle competenze allora trimestrali, oggi annuali, fa una verifica diciamo informatica e proprio rispetto al possibile superamento delle varie soglie usura che ci sono per le diverse forme tecniche e quindi taglia evidentemente quelle punte di calcolo degli interessi che dovessero in qualche modo ma sporadicamente risultare al di sopra di tali sogli. Questo anche nel caso specifico l'avevamo assolutamente applicata tant'è che negli estratti conti ce n'era traccia. Ovviamente il debitore si era rivolto invece a uno studio commerciale come consulente che non aveva tenuto conto né di questo aspetto ma nemmeno di quello che era l'orientamento ultimo sia della magistratura che della banca d'italia sull'argomento. Quindi per lei la vicenda non doveva proprio finire in tribunale. Ecco non c'erano proprio gli elementi per arrivare davanti a un giudice. Guardi questo e questo veramente me lascia un po' di amare in bocca perché per una vicenda analoga sullo stesso cliente ok ovviamente chiamati in causa come presunto istituto che aveva superato un altro istituto concorrente un altro tribunale della nostra provincia quello di Salerno aveva chiuso l'istruttoria in fase proprio preliminare senza arrivare. Il tribunale di Valle invece aveva deciso diversamente. Un risultato che chiude questa vicenda ma insomma che conferma che la banca lavora nell'unico interesse dei clienti se ce ne fosse ancora bisogno. Ecco tranquillizziamo quindi gli utenti, i clienti e la comunità locale. Ma guardi è la nostra origine, la nostra storia che parla per noi. Noi nasciamo per calmirare i prezzi, per calmirare i tassi. Quindi figuriamoci se noi come banca di credito cooperativa possiamo essere additati. Io ricordo sempre basta fare un giro sui siti e vedere le pubblicazioni dei tassi medi applicati dalle altre banche e le pubblicazioni dei tassi medi applicati dal nostro istituto. Con la differenza che mentre noi quello che pubblicamo sul sito che sono i tassi minimi e massimi non l'applichiamo mai, praticamente siamo sempre ad un'applicazione molto ma molto mediata e invece gli altri istituti che hanno come solo obiettivo quello della produzione del reddito, parlo delle banche nazionali principalmente ma neanche delle altre tipologie di banche diverse dalle banche di credito cooperativo, normalmente applicano. Noi non lo facciamo mai perché non abbiamo solo il fine dell'utile ma abbiamo anche il fine dettato dal nostro articolo 2 dello statuto sociale e quello della crescita economica sì ma anche morale, civile e sociale dei territori. Quindi noi facciamo economia sociale. Ecco proprio a conferma di queste sue parole arriva un importante incontro. Ecco che avete organizzato per il primo dicembre nel Vallo di Diano a Sant'Arsegno dove di recente avete chiuso questo importante accordo con l'ordine dei commercialisti e si parlerà proprio di imprenditoria, imprenditoria del territorio. Ecco la riforma del fondo centrale di garanzia, la filiera a sostegno della imprenditoria del territorio, questo è proprio il tema al centro dell'incontro che si darà il primo come dicevamo presso l'auditorium di Sant'Arsegno. Ma sapete che da un anno e poco più ormai operiamo stabilmente anche nei nostri soci, i nostri clienti sanno benissimo che operiamo anche nel Vallo di Diano avendo fatto un'operazione di concentrazione con l'ex BCC di Sassano. Quel territorio è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di operatori economici di tipo imprenditoriale, diversamente dall'economia del Cilento dove invece l'economia si basa solo su due settori tipici che sono l'agricoltura e l'industria turistica che sono entrambi ma di più il secondo rispetto a primo tipicamente attività a espressione stagionale. Detto questo siccome c'è in corso una importante modifica del regolamento che disciplina l'operatività del fondo centrale di garanzia che è quel fondo che mette a disposizione lo Stato con fondi europei delle garanzie per quegli imprenditori che non hanno la possibilità di averle in proprio e per l'operatività nelle zone cosiddetto obiettivo 1, cioè nelle zone depresse dell'Europa da sviluppare questa garanzia è gratuita, del tutto gratuita, ebbene questa regolamentazione sta subendo un'importante variazione. Qual è la variazione? Che passa da un sistema di selezione delle domande che pervengono, che è basato sullo scoring, a un altro sistema molto più evoluto e al passo con i tempi che è il rating. Qual è la differenza? La differenza è che il primo, diciamo, si basa solo su alcuni valori di bilancio, nell'ambito di un percorso però prestabilito e gestito direttamente dal fondo, si passa a un altro sistema che è più tipicamente bancario perché ricordiamo che l'ente gestore di questo fondo che è medio credito centrale, ormai è entrato proprio nell'orbita, è diventato una vera e propria banca di Stato. Da ente pubblico è diventata ultimamente, è passata dalla proprietà di poste italiana alla proprietà di Invitalia e quindi sarà la banca propria che gestirà tutte quelle che sono gli interventi pubblici che storicamente effettua, ha sempre effettuato Invitalia. Quindi la sua natura ormai bancaria l'ha portata a dotarsi di uno strumento tipico bancario che è appunto il rating, il rating interno che è molto ma molto più sofisticato e molto ma molto più aderente a quelle che sono le finalità di selezione di tipo della clientela o comunque degli interlocutori di tipo bancario. Ebbene, da un calcolo statistico che è stato fatto, mentre il primo strumento, col primo strumento medio credito centrale, riusciva a raggiungere fra il 70 e il 75% della platea di possibili suoi utenti, di imprenditori suoi utenti, con questo nuovo strumento, anche se più evoluto, molto più sofisticato, almeno le statistiche dicono che riuscirà a raggiungere oltre il 90%. Il problema però per le banche che utilizzano questo strumento è che però il rating interno imposto da medio credito centrale ha delle regole molto molto stringenti e molto precise. Ecco perché abbiamo sentito la necessità di fare questo convegno al quale parteciperà il massimo esperto che abbiamo nel centro sud d'Italia, che è il dottor Di Cicco di Icrea Banca Impresa, che gestisce proprio per conto di tutto il movimento del credito cooperativo questo strumento e quindi è in grado di dare quelle che sono le linee guida e le differenze tra il nuovo strumento e il vecchio strumento. Ovviamente l'abbiamo voluto fare in sinergia con i commercialisti perché sono gli altri attori della filiera che assiste gli imprenditori, l'ipotetica filiera che assiste gli imprenditori perché è vero che la selezione deve essere impostata dalle banche ma è altrettanto vero che i numeri delle imprese le scrivono e le scrivono i consulenti e i commercialisti e questo è un motivo. L'altro motivo altrettanto importante è che c'è una partizione di questo nuovo strumento, quello rivolto alle start-up, cioè alle imprese nuove che potrà essere utilizzato solo a condizione che le imprese stesse si sottopongano a un periodo di gestione in tutoraggio, da parte un tutoraggio che deve essere effettuato proprio da dottori commercialisti selezionati in un apposito albo che dovranno essere formati per fare questo specifico lavoro e chi è che potrà fare questo lavoro? Nel caso nostro la Fondazione Grande Lucania perché è stata abilitata e certificata a poter fare formazione. Ecco perché questi sono gli attori che parteciperanno a questo importantissimo convegno del 1 dicembre alle ore 16 a Sant'Arsenio quindi nel cuore del Vallo di Diano perché è un territorio che come e più degli altri ha bisogno di questo strumento.